Il piano morto, tutto dentro, il motto di Gregorio, tutto dentro. Con la classifica finale del primo campionato italiano di Cornol. Allora, vorrei qui sul palco le squadre che hanno vinto le proprie categorie. E che sono, per la categoria Under 15, il Piazza. Venite ragazzi. Per la categoria Senior, il Sant'Anna. È tanto che giocate a Cornol? Sì, sì. Qualche anno? Sì, una decina. E per la categoria Nonu, le frazioni. E questi sono i vincitori del primo torneo di Cornol. La classifica del torneo è la seguente. Al settimo posto, con 12 punti, il Tarasone. Al sesto posto, con 15 punti, il Ferrone. Al quinto posto, ma con la performance più alta, sempre a 15 punti, il Via Cuneo. Al quarto posto, con 18 punti, i Piani. Al terzo posto, con 22 punti, le frazioni. Al secondo posto, sempre a 22 punti, ma la performance più alta, il Piazza. Vincere il primo torneo di Cornol, il Sant'Anna. E passiamo alla classifica generale fino a questo punto che ho lasciato sul tavolo. E passiamo alla classifica generale fino a questo punto che ho lasciato sul tavolo. Grazie. Grazie. Grazie.